Il Policlinico ad Enna, o meglio un protocollo d'intesa firmato dalla Regione e dall'Università Core nella prospettiva dell'istituzione di un policlinico, ha fatto sobbalzare dalla sedia il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino. Qualche tempo dietro era lo stesso assessore Ruggero Razza a parlare dell'istituzione a Caltanissetta di un policlinico e invece adesso pare che la scelta sia virata su Enna. Quindi conferenza dei sindaci allargata sulla sanità, convocata da Gambino, presidente della conferenza, per il pomeriggio alle 17. A questa riunione io ho invitato pure altri soggetti che per me sono titolatissimi. E per primo sull'Esserenza e Vescovo perché lui ha scritto una lettera molto interessante su cui molti devono dare risposte. Il presidente della Regione, l'assessore Razza, tutta la deputazione nazionale e regionale della nostra provincia e chiaramente i miei colleghi, il rettore dell'Università di Palermo e il rettore dell'Università di Enna perché voi sapete che noi abbiamo qua un consorzio universitario che è affiliato con l'Università di Palermo e anche il presidente del consorzio ha invitato, è invitato la presidente della sesta commissione e ovviamente tutto alla governanza dell'Asp. Per chiarire una volta per tutte cosa dobbiamo fare noi dell'Università e della Sanità qui in provincia di Calzanissette perché è chiaro che da altre parti si muovono in maniera sinergica. Io vedo che a Enna praticamente si muovono insieme all'Università, si muovono tutti i deputati, fanno un quadrato. Qua invece siamo ognuno per i fatti nostri. Allora io vorrei capire, i signori deputati nazionali, regionali come ci possono aiutare per andare a portare avanti le nostre istanze? Perché chiaramente i 22 sindaci non è che hanno un potere spropositato e possono andare a sbattere i pugni sul tavolo i pugni sul tavolo possono andare a sbattere qualche altro, ma dobbiamo essere tutti insieme. E allora questa occasione della conferenza dei sindaci, questa qui, che viene portata su determinati temi è importante perché utilizzando l'aspetto salute noi dobbiamo andare a creare sviluppo del territorio. Anche se per istituire un policlinico ci vuole un ospedale di secondo livello, un DEA, struttura che Enna non è, e invece lo è Calzanissetta, si farà luce anche su questa ragione. Se il Sant'Elia va verso il depotenziamento a favore dell'ospedale Ennese, o se il protocollo, ostante così le cose, sarebbe scarta straccia. E dunque perché averlo firmato?